Ciao, io sono Nadia, ho 19 anni, il mio è un sogno che coltivo da quando ero piccola. Vorrei diventare un architetto e progettare case ecosostenibili per offrire una vita migliore a chi ne ha bisogno. Desidero diventare una dei migliori in questo campo anche per ripagare tutti i sacrifici che la mia famiglia ha fatto per me. Secondo me non avere un sogno significa non avere un obiettivo per cui vivere e lottare.